Cari lettori, sono lieta di informavi che il libro Gli assassini della terra rossa, affari, petrolio, omicidi e la nascita dell'FBI. Una storia di frontiera, il romanzo del saggista e giornalista statunitense David Gran, diventa un film. Apple Original Films, la casa di produzione e distribuzione cinematografica, ha rilasciato il trailer del film Killers of the Flower Moon, l'adattamento cinematografico basato sulla storia vera degli Osage, popolo di nativi americani divenuti improvvisamente le persone più ricche del mondo. Il regista Martin Scorsese mette in scena nel film ambientato negli anni 20, la storia dei membri della tribù Osage, situata nel nord-est dell'Oklahoma, che vengono assassinati in circostanze misteriose. Questi individui avevano accumulato ricchezza grazie ai proventi derivanti dall'industria petrolifera, dando così il via a un'importante indagine condotta dall'FBI e guidata da un giovane di soli 29 anni, J. Edgar Hoover, e dall'ex ranger del Texas, Tom White, un'icona di giustizia. Il film viene narrato attraverso la sorprendente storia d'amore tra Ernest Burkhardt, interpretato da Leonardo DiCaprio e Molly Kyle, interpretata da Lily Gladstone. Il film è una saga epica di crimine western in cui l'amore autentico si scontra con un tradimento inimmaginabile. Il film, che uscirà il 19 ottobre 2023, vanta un cast stellare che include Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone, Tantou Cardinal, Karajade Myers, Yanae Collins, Gillian Dion, William Bellot, Louis Cancelmi, Tantan Kamins e Brendan Fraser. Preparatevi per un'esperienza cinematografica indimenticabile. Di seguito la trama del libro. Negli anni 20 del 900 negli Stati Uniti i cittadini più ricchi non erano i wasp bostoniani, bensì la tribù degli osage, che viveva confinata da decenni in una riserva in Oklahoma ridotta ai margini della società e che improvvisamente si ritrova ricchissima per la scoperta di giacimenti petroliferi immensi sotto il loro suolo. Altrettanto improvvisamente però, incomincia una serie impressionante di omicidi degli indiani più ricchi. Gli osage si rivolgono allora a un organismo appena creato, il Bureau of Investigation destinato a diventare di lì a breve l'FBA, che si trova di fronte al primo caso di assoluto rilievo e che applicando le prime tecniche scientifiche, intercettazioni telefoniche, microspie, svela una rete di connivenze a tutti i livelli della società. Grazie per l'attenzione. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.